4. La cellula eucariota delle piante. Quali sono le differenze tra cellula animale e cellula vegetale? Quali organoli cellulari sono presenti solo nella cellula vegetale? Di che sostanza è fatta la parete cellulare? Quale importante processo svolge la cellula vegetale? Il nucleo, i ribosomi, il reticolo endoplasmatico, l'apparato di Golgi, i mitocondri e i però sisomi sono organoli che si ritrovano sia nella cellula animale sia in quella vegetale. La cellula vegetale presenta però anche delle peculiari caratteristiche che la differenziano dalla cellula animale. Sono infatti presenti una parete cellulare rigida formata da cellulosa, i cloroplasti deputati alla fotosintesi clorofiliana e un grosso vacuolo che smaltissi i rifiuti e serve per l'accumulo di acqua e sostanze utili alla cellula. La cellula vegetale. La cellula vegetale è una cellula eucariote, benché abbia una struttura di base simile alla cellula animale differisce da essa per alcune caratteristiche. La cellula vegetale presenta esternamente alla membrana plasmatica una parete cellulare rigida che generalmente conferisce alla cellula una forma poligonale. Nel citoplasma della cellula vegetale occupa un ampio spazio e contiene soprattutto acqua. Parete cellulare e vacuolo sono assenti nella cellula animale. Nel citoplasma della cellula vegetale sono anche presenti numerosi organuli di piccole dimensioni. I cloroplasti, strutture in grado di assorbire energia luminosa. Questa energia viene utilizzata dai cloroplasti per la fotosintesi clorofiliana, il processo che consente alla cellula vegetale di costruire zuccheri e quindi nutrimento. La fotosintesi clorofiliana è un processo che si svolge nei cloroplasti e che consente di fabbricare zuccheri. Anche la cellula vegetale, come quella animale, presenta nel suo citoplasma un nucleo centrale contenente il materiale genetico, mitocondo e ribosomi, reticolo endoplasmatico, apparato di Golgi e però sisomi. È invece priva di lisosomi, poiché la demolizione delle sostanze di rifiuto avviene nel vacuolo. La cellula vegetale non ha nemmeno il citoscheletro, poiché è sostenuta dalla parete cellulare, né i centrioli. La parete cellulare esterna, il vacuolo per lo smaltimento dei rifiuti e l'accumulo di acqua e sostanze e i cloroplasti sono strutture presenti solo nella cellula vegetale. Parete cellulare è esterna alla membrana plasmatica ed è rigida. Essa è costituita da un polisaccaride formato da molecole di glucosio, presente unicamente nelle piante, la cellulosa. La parete dotata di alcune aperture che consentono il passaggio di determinate sostanze, protegge e sostiene la cellula e contribuisce a farle mantenere la forma. Cloroplasti. Le cellule vegetali che costituiscono le parti verdi delle piante sono dotate di cloroplasti. I cloroplasti circondati da due membrane sono organuli di dimensioni variabile e hanno un colore verde dato dalla presenza di clorofilla, un pigmento in grado di assorbire la luce del sole. All'interno di ogni cloroplasto è presente un fluido denso, detto stroma. Nello stroma è immerso un complesso sistema di membrane organizzate a formare dischi impilati, i tilacoidi, e tubuli, tutti comunicanti tra loro. Le membrane dei tilacoidi contengono la clorofilla e catturano l'energia luminosa durante la fotosintesi. Nello stroma si trova una molecola di DNA e ribosomi. Sui ribosomi avviene la sintesi delle proteine, utili al cloroplasto stesso. Vacuolo. Il vacuolo occupa un ampio spazio del citoplasma, fino all'80% del volume cellulare, e contiene acqua, sostanze di riserva e materiali di rifiuto. Svolge la funzione di spazzino, al posto dei lisosomi ma serve anche per immagazzinare acqua e sostanze utili alla cellula. La grande quantità di acqua presente nel vacuolo crea una pressione verso l'esterno che fornisce alle cellule vegetali la rigidità necessaria per consentire alla pianta di sostenersi. Grazie. 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 Grazie.